speriamo dovrebbe andare tutto dovrebbe esserci tutto fai un'occhiata ragazzi benvenuti è il primo podcast che facciamo purtroppo come tutte le cose nuove ci potrebbero essere degli intoppi quindi dateci magari dei feedback poi cominceremo con la parte podcast guarda ci sono già i primi i primi insulti ci sono allora c'è andrea ciao belli del zio ciao andrea ciao amore c'è che per l'inizio c'ha twitch si è uggio dj ehi sono andrea quello che è stato tutto il giorno in live l'ultima volta allora ragazzi ciao bri sì 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 lo sappiamo che è buio adesso spieghiamo un po spieghiamo un po abbiamo deciso di fare un setup differente perché il focus del podcast ovviamente non sono le nostre facce dal momento in cui quello che conta sono le nostre voci e quindi il focus sono le nostre voci e quello che andiamo a dire e quindi gli argomenti che trattiamo ci stiamo preparati un po atipica perché non guarderemo spessissimo in cam non interagiremo spessissimo diciamo questo è un po per spiegarvi quello che andremo a fare in questi podcast perché li vogliamo fare e vogliamo subito fare una premessa più che episodio 1 questo è l'episodio pilota perché dobbiamo un po rivedere setup per qualche piccolo accorgimento come ad esempio il faretto capire come posizionare le iso eccetera eccetera però sostanzialmente lato video che poi è la cosa che meno ci interessa vogliamo mantenere un ambiente con luci soffuse con sfondo questa bella creazione da parte di Eugio che va perfezionata diciamolo cioè noi vogliamo inserire i disegni di Bri questa è stata un'emergenza Eugio è riuscito a mandarci questa perché non sapevamo che cosa fare quindi grazie a Eugio che ci ha per l'ennesima volta salvato proprio le ciappette diciamo poi presumo si veda in chat però abbiamo da una parte la scaletta dall'altra abbiamo voi così riusciamo a vedere come andiamo un video riusciamo anche a leggere insomma le vostre opinioni su quello che è l'andamento della diretta dobbiamo iniziare a fare con i geni ciao videovisori e cuffie ascoltatori comunque allora noi ci siamo preparati una piccola scaletta perché giustamente d'ora in poi questo format non sarà come i nostri soliti talk show dove andiamo a braccio questa volta andiamo sia a braccio però seguendo una scaletta è un solo argomento è un solo argomento un macro argomento e andando avanti abbiamo deciso che porteremo anche qualche ospite magari se qualcuno di voi vuole partecipare con un argomento specifico è ben accetto non ci sono problemi può comparire in video oppure semplicemente previa organizzazione ovviamente esatto oppure semplicemente tramite collegamento audio allora io partirei innanzitutto con la scaletta abbiamo deciso di fare un'introduzione per spiegare per spiegare chi oggi gli argomenti sono due oggi gli argomenti sono due una l'introduzione perché introduciamo il podcast spieghiamo chi siamo per le persone nuove che poi ci seguiranno o comunque gli audio ascoltatori che non è propriamente il nostro tipo di pubblico però speriamo che lo diventino e poi il secondo argomento che poi è quello principale della diretta è dedicato al fenomeno playstation come potete vedere dal titolo allora il podcast nasce per cercare di espandere i nostri confini oltre il mondo dei videogiochi tant'è che non faremo soltanto che cosa hanno fatto tu non perfezioni una fava che non sembra grazie augio grazie mille allora pensaci tu ti paghiamo una stanza qui a massa viene a farci in setup a casa il nostro live fai comunque insomma il podcast nasce per espandere i nostri confini oltre il mondo dei videogiochi che poi non necessariamente diciamo che lo utilizzeremo sia per parlare anche di tematiche che vanno oltre il mondo videoludico quindi volendo attualità o quello che ci passa per la testa ma anche quegli argomenti che sono troppo pesanti per un talk che quindi andrebbero a monopolizzare l'intera serata e troppo lunghi per un video quindi gli scarti no non sono veramente scarti possiamo dire che sono quei tipi di argomento che non ci permettono di interagire mentre lo trattiamo insieme a voi quindi sono argomenti un po più un po più pesanti e sono anche tematiche che vanno un pochino fuori quelli che sono i temi soliti che trattiamo all'interno dei nostri weekly talk show ora che trovate su youtube che trovate su youtube noi da oggi saremo su twitch quando decideremo di fare i podcast saremo su youtube per la nostra precisa esatto questo poi ne parleremo tra poco saremo su youtube con i nostri soliti video il lunedì a orario variabile perché dipende dipende dal tipo di video che facciamo a seconda del tipo di video decidiamo la fascia di pubblico in base a quello e poi il martedì con il nostro weekly talk show alle 21 tutti i martedì salvo imprevisti ora perché abbiamo deciso di creare il podcast ve l'abbiamo detto chi siamo però non ve l'abbiamo ancora detto soprattutto per i nuovi arrivati noi siamo i crew dudes siamo due fratelli abbiamo cominciato due anni fa con il nostro canale youtube presi dalla passione che abbiamo parecchio smisurata per i videogiochi e soprattutto per un titolo in particolare che ci ha portato a creare il canale death stranding ma ora fatta questa piccola premessa possiamo dire anche cominciare sì a una delle differenze sostanziali tra talk show e podcast oltre a setup eccetera eccetera è che difficilmente leggeremo la chat almeno quando iniziamo i discorsi man mano che andiamo avanti ci diamo un'occhiata e cerchiamo di capire se c'è qualche spunto interessante che possiamo inserire all'interno dell'argomentazione eccetera eccetera e io non vorrei fare lo spamone però diciamo che noi vorremmo migliorare il setup quindi se volete fare donazioni sono ben accette perché dovremmo teoricamente acquistare un microfono un po più più buono del samsung migliore noi vorremmo prendere il blu yeti però è una spesa già abbastanza importante l'abbiamo già avute tante tra la console nuova questa piccola bestia che vedete qua dietro bella il computer grazie dietro le grafiche di euro che abbiamo pagato salatissime siamo rimasti a corto di quattrini però stupidaggini a parti piano 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 miglioreremo il setup anche lato audio bene io direi di partire con il fenomeno playstation aspetta abbiamo saltato una cosa guardiamo bene no va detto giustamente se non facciamo casino non siamo noi il podcast non sarà cadenza regolare attualmente questo perché dobbiamo cercare di capire come strutturarlo al meglio come comportarci poi per le piattaforme solamente audio dove andremo poi a portare tutta la parte audio come curarle e decidere soprattutto su quali rimanere su quali puntare quindi la cadenza del podcast attualmente sarà all'incirca di due podcast al mese credo a meno che non abbiamo degli argomenti proprio straordinari che diciamo facciamo un podcast quindi per per rimanere aggiornati insomma se volete seguire il podcast con regolarità quindi seguirlo ogni volta che uscirà vi consigliamo di seguirci sui social trovate tutti i link nella descrizione al video youtube altrimenti ci trovate sotto la hashtag two crude dudes però con il due scritto con due i la comodità di doversi diversificare dagli altri canali che già ti hanno rubato il nick esatto ok adesso la manetta sigla e privi pipi 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 a posto bella il fenomeno playstation abbiamo deciso di strutturarlo in tre potere ho deciso di strutturare in tre parti la prima che poi sono le prime due dalla nascita ad oggi cosa ha rappresentato playstation per il pubblico e poi parliamo anche dei vari lanci di playstation e come è divenuto un fenomeno di massa bene vai apri tu le danze ma io ho parlato io finora hai detto che volevi fare l'intro del coso playstation ok va bene la faccio l'intro io le cose che hai detto perché io l'ho vissuta diversamente cioè io i lanci li ho vissuti diversamente perché eri moccioso che colpa se mi hanno concepito dopo che ci faccio che ti sei persa anche lancio della playstation 1 vabbè però la 3 se ce l'hai avuta è merito della mia comunione a bellissimi fai calmo e fai cose allora molti di voi che sono videogiocatori come noi magari attempati come me che vado per i 37 anni avranno vissuto l'era di playstation un po in maniera differente rispetto a quelli che erano i soliti canoni noi eravamo sempre abituati ad avere due sistemi videoludici all'interno del mercato che si facevano battaglia uno con l'altro fino al momento in cui playstation non decide di entrare nel mercato delle console i contendenti diventano tre abbiamo da una parte sony con la sua playstation sega con il proprio che cosa c'è da ridere non ho ben capito cosa è successo però ho dato un'occhiata poi sono nero a quello non gli interessa a nessuno tanto non ti vedono vai abbiamo da una parte sony con playstation sega con il saturn e nintendo con il nintendo 64 abbiamo sostanzialmente tre sistemi totalmente differenti uno dall'altro usciti con tempistiche differenti però abbiamo una predominanza da parte di sony dovuta soprattutto al marketing molto aggressivo che per la prima volta invade un po tutto il mondo possiamo dire che playstation ha portato l'espansione delle console non solo nei classici territori che potevano essere il singolo territorio giapponese e quello americano ha fatto esplodere il mercato anche in europa che era un mercato ancora dove il mercato console doveva impregnarsi cosa succede nasce playstation esce sul mercato c'è la novità che la console può leggere anche non lascia stare non capito ok primo intoppo perfetto però se non te ricordiamoci di mettere un cuscino la perché altrimenti è andrà sempre così si playstation arriva sul mercato comincia con un marketing molto aggressivo a fare a farsi spazio diciamo nel nell'immaginario collettivo e comincia a prendere a prendere piede questa nuova console appena arrivata sconosciuta i più perché ovviamente era tutto territorio nintendo e sega fino a quel periodo e possiamo dire che buona parte del successo deriva anche dal fatto che il formato cd poteva permettere non solo un l'inserimento di filmati in computer grafica che per i tempi non erano mai stati utilizzati è stata una console che aveva portato l'innovazione del 3d aveva portato tantissime novità sul mercato però possiamo dire senza remora di essere smentiti che buona parte del successo di playstation fu dovuta anche all'ampio margine di pirateria questo perché i tempi dell'epoca playstation 1 e playstation 2 la pirateria era veramente possiamo dire massimi livelli poi alle ps2 tutte le playstation 2 erano tutte piratate lo stesso la playstation 1 la playstation 1 anche se è un tema che non è propriamente bello di cui discutere le playstation 1 potevano essere modificate sbariati modi si poteva inserire un chip all'interno della console che andava poi a modificare permetterti di leggere i giochi ovviamente pre regi scaricati scusate registrati e oppure si poteva fare tramite come si chiamava c'era un aggegino esterno da collegare dietro che si utilizzava per i cheat poteva essere usato in congiunzione con una molla per far leggere inizialmente il codice del gioco sorgente un gioco qualsiasi anche una demo però bastava semplicemente sostituirlo mettere il gioco pirata e si giocava senza problemi ma qualsiasi titolo piratato niente ma questo questo sostanzialmente il motivo per cui playstation secondo noi per lo meno secondo me prese piede rispetto alle altre perché ne abbiamo fatto questo discorso ragazzi vogliamo fare si game shark ma aveva anche un altro nome non mi ricordo bene non mi ricordo bene andrea però cioè mi ricordo che nicolò aveva una specie cavetto per la 2 c'è una cosa esterna aspetta cavetto esterno serviva per far vedere i titoli ntsc quindi quelli giapponesi o quelli americani altrimenti li vedevi in bianco e nero una chiavetta non so cosa c'era però c'erano medal of honor sì c'era dei dispositivi esterni che potevi utilizzare playstation 2 ovviamente arriva dopo il grandissimo successo di playstation 1 che fu una console che al primo tentativo riusci a vendere oltre 100 milioni di copie a proda sul mercato con una bomba iniziale che uccise praticamente da subito la concorrenza l'annuncio del prezzo a 299 dollari che ancora la console che ha venduto di sì è la console più venduta di sempre potrebbe però essere superata la nintendo switch se continua così ma questo non lo sappiamo ancora dobbiamo vedere se non si arrenerà come successo con il nintendo wii però playstation 2 forte del successo della prima piattaforma playstation arriva sul mercato con un prezzo esageratamente competitivo tant'è che la conferenza sony alle 3 di quell'anno divenne memorabile proprio per il momento da mic drop dove arrivavano dove arrivarono arrivò il presidente si affacciò alla stampa e disse 299 e se ne andò via e lì finì praticamente tutto cioè ha detto solo 299 è arrivato qua 299 e si è allontanato e la gente esultare come matti credo te l'hanno regalata no non era regalata chi se lo ricorda il lire costava veramente tanto però per il mercato americano fu una bomba quel prezzo le station 2 anche quella facilmente modificabile vide proprio l'esplosione del brand del brand playstation presso qualsiasi territorio tant'è che playstation proprio grazie all'era playstation 1 e playstation 2 entrata nell'immaginario collettivo come termine di console qui noi possiamo parlare per il territorio per il territorio italiano ma non solo possiamo vedere ad esempio anche a livello europeo a livello europeo in molti paesi se non quasi tutti playstation è sinonimo di console i genitori quando parlano di console ti dicono ah stai giocando alla playstation infatti quando noi compramo xbox 360 che la compramo solo per alan wake nostra madre ci disse ma perché avete comprato un'altra playstation letteralmente sulla scatola c'era scritto xbox 360 c'era l'xbox per non parlare di tutte le volte a game stop in cui la gente diceva volevo i giochini della playstation è famosissima anche il meme quello in giappone del bambino non so se giapponese o comunque asiatico che c'è giornalista che gli dice hai comprato un xbox e il bimbo gli dice cos'è un xbox questo fa già capire tante cose perché si sono fatti un nome sono riusciti anche a mantenerlo adesso poi arriviamo al discorso attuale vediamo come andrà questa generazione il lancio è un po particolare diciamo che poteva andare meglio sotto il punto di vista della qualità di firmware eccetera eccetera però questo ci arriviamo di playstation 5 parleremo l'ultimo perché comunque è l'ultimo arrivato per arrivare al discorso che poi è un completo che dobbiamo affrontare ovvero cosa successo con playstation 5 il momento buio di sony possiamo parlare parliamo ovviamente soltanto delle home consoles perché se parliamo di console portatili abbiamo avuto psp che è stata un successone perché come prima console portatili arrivò quasi a 90 milioni di copie vendute nel mondo che sono veramente tantissime considerando che è un mercato di monopolio di nintendo come primo approccio fu veramente devastante quello che la uccise fu riuscita di playstation vita che nonostante fosse un'ottima console veramente bellissima sotto il punto di vista tecnico bellissimo anche sotto il punto di vista del parco titoli non fece presa perché loro per primi non ci credettero molto e l'abbandonarono molto presto senza dargli grosse speranza neanche non è stata neanche supportata più di tanto anche in quel caso anche pochi di giochi validi su ps vita in quel caso quello che l'ha veramente uccisa è stata un pochino il prezzo che era era giustificato non mi ricordo però costa mi sembra 200 euro più per una portatile non ha portati erano tanti ancora oi c'è secondo me è giustificata perché puoi usarla sia anche come un console e poi c'è tutto il discorso che te la puoi portare dietro smontare i controller poggiarsi li paghi ai pali la paglia innovazione se poi nell'unica nintendo è stata l'unica che ha venduto le le proprie portatili ad un prezzo seppur alto giustificato ma soprattutto quello che uccise playstation vita ve lo dico proprio senza mezzi termini fu la mancanza della pirateria il il formato proprietario della memory card una scelta totalmente sbagliata perché costavano uno sproposito ed erano molto piccole quindi la memoria espansiva era troppo costosa e nessuno voleva quindi prenderla ora tolto dalle balle l'argomento portatili possiamo continuare con il vero momento buio di playstation che arrivò con playstation 3 per me sia stato il periodo proprio di luce massimo playstation 3 nella nel momento più buio ha fatto tirare fuori gli artiglia sony e modificare tutta la percezione che il mercato ha avuto di loro nel momento giusto in congiunzione anche con diciamo una presa di posizione sbagliata da parte di microsoft a partire da un certo punto della generazione al lancio di playstation 3 cosa benne sony lancio sul mercato una piattaforma veramente difficile su cui veramente difficile da svilupparci molto costosa perché costava veramente tanto 600 euro da 600 euro al lancio ma non era costosa solo per noi era costosissima anche per loro tant'è che sony quasi rischio il fallimento per colpa di playstation 3 la vendettero in perdita loro la vendettero in enorme perdita perché ai tempi il lettore di un rei meno costoso costava più di playstation 3 per farti capire loro avevano orientato a lungo andare no non ci sono rientrati con playstation 3 come se qua a lungo andare molto ma lungo andare ha pagato la scelta che hanno fatto loro sono partiti malissimo dal punto di vista hardware perché hanno fatto avevano fatto una console estremamente costosa molto potente ma difficile da sfruttare tant'è che i migliori titoli ovviamente furono quelli first party ma tirarono fuori dei prodotti veramente allucinanti che tutt'oggi se tu li giochi in sotto forma di remaster ed non sfigurano nemmeno con i titoli current gen se facessero una remaster di killzone 2 killzone 2 è ancora uno dei fumi volumetrici più belli una delle intelligenze artificiali migliori fatte all'interno del panorama videoludico anche la fisica era veramente eccezionale playstation 3 aveva una cpu che era veramente devastante era al pari e in tanti casi superiore a quella utilizzata nella generazione successiva sbaglio è proprio per la difficile architettura su cui vengono sviluppati giochi ps3 che non fanno una retrocompatibilità se mi sembra che con la 1 e la 2 non hanno problemi si è proprio la trembro c'è l'architettura di playstation 3 perché infatti è una scelta di non fare la retro totale altrimenti dovrebbero fare 124 soli si era affidata alla prima la seconda la terza console a ken kutaragi che è il papà di playstation era un genio visionario una persona veramente che non pensava al prodotto come qualcosa di bello da venderti estetico ma doveva essere qualcosa di innovativo doveva avere qualcosa di assurdo dentro lui progettò questo cavolo di cell che era un processore astronomico per i tempi una roba veramente assurda che poteva fungere anche da gpu arrivarono a un certo punto dove dovettero inserire una scheda video perché il processore da solo non gli bastava perché gli sviluppatori non riuscivano a sfruttarlo a dovere quindi inserirlo anche una gpu proprio per quel motivo divisero la ram in due tronconi che fu un grosso problema per lo scorrere tutta la generazione via discorrendo però tralasciando i limiti tecnici possiamo dire che quello fu il momento più buio proprio perché la console costava eccessivamente troppo le persone non se la potevano permettere e quindi si fiondarono ampiamente a comprare un xbox 360 che dalla sua era una console potente era una console molto equilibrata e soprattutto era una console molto economica era una console che si poteva facilmente piratare che si poteva facilmente piratare e fu una grande fortuna per microsoft e si posero molto bene all'interno del mercato con prodotti molto validi quindi riuscirono a fare presa nel mercato non veramente i titoloni avevano dei grandi titoli avevano avuto delle grandi idee si erano saputi vendere bene all'interno del mercato sony riuscì a dare il via a qualcosa di più quando riuscì ad abbassare il prezzo di produzione della console quindi si potevano permettere di investire di più all'interno del parco ludico e qui cominciò il il vero momento d'oro di sony nella cattiva sorte riuscirono a tirare fuori quello che poi fu quello che poi è playstation al giorno d'oggi ossia un forte incentivo a sviluppare il software in casa abbiamo avuto sempre ottimi titoli da parte di playstation però se voi andate a pensare ai titoli che hanno definito una generazione playstation 1 e playstation 2 difficilmente troverete dei titoli che sono stati sviluppati in prima persona da sony al contrario se andate a valutare titoli che hanno definito la generazione di playstation 3 di playstation 4 e probabilmente di playstation 5 questi titoli sono prodotti in casa da sony e questo abbiamo che stesso studios adesso questo perché hanno investito fortemente nel proprio prodotto hanno hanno investito fortemente nel proprio brand e sono riusciti a tirare fuori qualcosa in stile nintendo però hanno puntato ad un pubblico totalmente diverso hanno puntato ad un pubblico che loro hanno accolto da ragazzi e si sono portati avanti nel tempo fino a farle diventare persone mature quindi possiamo avere esperienze molto mature ma al tempo stesso abbiamo avuto anche delle esperienze molto più user friendly dedicate anche a bambini come poi comunque sono riuscito anche ad accalappiarsi una fetta di pubblico di giovanissimi cioè tu se becchi la gen z di ora gen z sono quelli dopo il 2000 mi pare non lo so sinceramente i più giovani cavolo playstation è comunque un un'icona possiamo dirlo tranquillamente c'è qualcosa di interessante in chat si è un gioco che il sale sviluppato in collaborazione con ibm e toshiba si lo so benissimo che sviluppato con loro cosa stavamo dicendo vuoi fare un pochino te beh io direi che l'era ps4 possiamo riassumerla riferire l'era ps3 spiega almeno i titoli cosa hanno tirato fuori ma ne hai parlato finora no io ho detto che hanno investito sui team first party beh su ps3 hanno portato avanti dei brand storici come è stato cioè che sono nati su ps2 tipo god of war e sono riusciti veramente a far vedere i muscoli della console tant'è che god of war 3 è ancora uno dei titoli graficamente più appaganti che puoi trovare sicuramente uno dei migliori usciti su playstation 3 hanno creato alcune tra le ip che hanno definito il mercato hanno definito il mercato e alcune speriamo di rivedere come ad esempio resistance di insomniac infemus che a mio avviso poteva avere un'evoluzione migliore visto che second son non rende sempre a mio avviso giustizia i primi due capitoli con call poi abbiamo avuto la nascita dei souls con demon souls che stiamo rigiocando adesso su ps5 e che madonna c'è stato anche su ps3 quello che è il mio piccolo gioiellino il titolo che per me è stato l'innovazione più grande di sempre che è stato little big planet per me è il gioco little big planet ha dato il via al filone di giochi utilizzato anche la nintendo ad esempio con mario maker ossia quei titoli che ti permettono di svilupparti qualcosa da te però la via il content creation dato in mano all'utente loro ci hanno creato il gioco con il loro tool di sviluppo che è lo stesso che poi è stato usato per dreams ma fatto meglio però molto meglio sai cos'è il punto è che dreams non ci ha avuto lo stesso impatto perché mi ha fatto come little big planet 2 e 3 nonostante fossero fatti meglio l'effetto novitare ha sparito zero infatti c'ho avuto un fil per dreams infatti l'ho comprato però little big planet per me rimane quello e basta una cosa proprio personale adesso se vi fermate a pensare a qual è stato il titolo che più di tutti ha dato il via all'esplosione di playstation 3 l'unico che può venire in mente è il brand di uncharted questo perché il primo uncharted uscì praticamente possiamo dire concomitanza anche se non fu proprio così con gears of war venne visto come una copia di gears anche se puntavano comunque a due tipologie di gioco differenti gears molto più più brutale il famoso hanno copiato la cover il sistema di cover da gears si perché è uscito qualche mese dopo gli hanno copiato il sistema di copertura l'hanno inserito in quei mesi di quando hanno visto gears che poi kids which lo aveva prima di tutti però lasciamo perdere tolte queste stupidaggini possiamo dire che uncharted fu la vera e propria fortuna di playstation questo perché col primo capitolo riuscirono a catturare drake's fortune riuscirono a catturare moltissimo l'attenzione del pubblico perché era un titolo che si presentava molto bene dal punto di vista grafico aveva una grafica veramente spacca macella ti senti di giochi ora la remaster non ti pesa fu il primo gioco a mostrare i muscoli di playstation e questo attirò molto l'attenzione del pubblico ma soprattutto il titolo che veramente ha definito un'industria fu uncharted 2 con l'utilizzo dei set piece che adesso troviamo in tutti i giochi qualsiasi gioco dopo uncharted ha cominciato a seguire quel quella filosofia ludica ossia inserirti porti all'interno di un contesto spettacolare dove tu hai un casino assurdo a schermo distruzione da tutte le parti parti di scenario che cadono e tu nel frattempo hai sempre il controllo e continui a giocare quella fu una cosa veramente ti faceva esplodere il cervello ai tempi infatti la sequenza col treno di uncharted 2 fu talmente tanto chiacchierata che mi pare che in quell'anno uno dei video più visti a tema video ludico era la spiegazione di come l'avevano realizzata dai backstage veramente uno spettacolo anche qui naughty dog i precursori nata la fortuna di playstation naughty dog ha segnato molto l'era la generazione playstation 3 successiva perché poi dopo abbiamo avuto l'arrivo dei titoli più maturi da parte di naughty dog ossia della sto base il canto del canto del film di playstation 3 un titolo veramente spettacolare sotto tutti i punti di vista che ha fatto percepire naughty dog per la prima volta come uno studio capace di portare sul mercato qualcosa di effettivamente maturo che loro prima prima erano era il titolo colorato non era un titolo brutale anche c'era sangue ma neanche anche l'elemento sovrannaturale però non era una cosa era un simile ragazzi possiamo metterlo alla indiana john poi loro erano famosi per crash band di terrestri della sto base se uncharted sta a indiana johns della sto base a cosa sta alien è troppo come era i figli degli uomini come era children of men children of men beh però lì non ci sono tutta la prima persona che c'era di restare incinta eccetera quello è un capolavoro io lo metterei più sulla falsa riga di quello tra l'altro ragazzi guardatelo se non l'avete visto un titolo posto in un contesto realistico molto molto anche perché della sto base prende una cosa reale che il cordyceps però simula uno scenario in cui questo si attacca all'uomo cioè è stata una cosa geniale il bello di naughty dog che riesce a prendere il semplice fartelo apprezzare e renderlo complesso per tutta una serie di cose ed è una cosa che non sono in grado di fare di fare tanti studi anzi pochissimi secondo me sì veramente poi li conti sulle dita di una mano neanche di due fcr cruz sarà sic 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 quindi siamo arrivati adesso alla fine della generazione per station 3 per station 3 fino arrivati fino a un certo punto del ciclo vitale della console non aveva fatto breccia sul mercato con l'arrivo di certi giochi ovviamente grazie anche all'esplosione pubblicitaria che hanno avuto perché veramente investirono tantissimo pubblicità già lo fecero con playstation uno lo fecero con playstation 2 incrementarono ancora di più l'utilizzo delle pubblicità per playstation 3 avevano un loro slogan con playstation 3 for the players ora play hanno sempre avuti però non me li ricordo tutti gli slogan sinceramente vabbè qualcuno lo dirà lo sapete scrivetelo nei commenti quindi riuscirono a prendere piano piano piede nel mercato microsoft si era mossa fino ad allora benissimo però cominciarono ad avere degli zoppicamenti quando introdurrono il kinect introdusselo introdurrono scusate scusatemi ragazzi l'ora è tarda io sto anziano è bello bellissimo ma si dice anche introdurrono a bolletaria i minatori ignoranti di bolletaria this is living mi sa comunque secondo me si dice introdurrono poi dopo andrò a indagare introdurrono microsoft microsoft si mosse molto bene però ebbe due grossi problemi il primo il red ring of death che ebbe un impatto veramente molto negativo sulla compagnia proprio a livello di immagine ma stato per l'immagine fu grosso però loro ne uscirono bene coprendosi tutte anche le console quelle fuori garanzia le coprirono tutte fecero una perdita di non ricordo quanti soldi ma mi sembra qualche miliardo di dollari per far rientrare tutte le console sotto garanzia e questa fu una mossa veramente spettacolare pochi l'avrebbero fatta vabbè alla fin fine sia un problema dato dallo sviluppo che tu hai fatto della console non è un problema creato dall'utente sei quasi spinto a farlo però che non sia apple ai periodi delle bits in cui se buttai fare un prodotto difettoso non andiamo fatele a comprare non andiamo fuori tema però è per dire che comunque microsoft apporto veramente una bella andiamo fuori tema senti guarda che ti do un pugno così i videovisori vedono e godono fare in modo che lo sentano anche trovo vicino al micro dai dai il secondo problema fu l'introduzione il secondo problema fu l'introduzione del kinect questo perché l'introdurre il kinect li portò veramente a farsi degli autodanni d'immagine clamorosi con delle demo veramente assurde il kinect è stato il meme di 360 un'invenzione veramente ottima anche un utile sotto certi punti sembra che lo utilizzassero anche per dei sistemi extra console però il grosso problema del kinect fu che loro si spostarono totalmente su questa fascia di pubblico ignorando quello che poi era l'utenza che si sarebbero dovuti portare alla generazione successiva ossia quella hardcore però ricordi quello spot del che quel gioco quella demo in cui c'erano gli animali che c'erano erano orrendi con il kinect mi ricordo che c'erano dei un sacco di meme nelle compilation su youtube di me mettendo a videogiochi in cui c'era tipo una tigra e super deforme del kinect però devo ricercarmi una cosa pessima vabbè raga che il kinect abbia causato danni a microsoft penso che sia risaputo è proprio loro si focalizzarono totalmente su kinect abbandonarono la fascia core mentre sony ha continuato a supportare playstation 3 fino alla fine del ciclo vitale proprio fino alla fine perché l'ultimo gioco è arrivato in concomitanza con l'uscita di playstation 4 ossia uscita nel 2013 e poi hanno continuato a supportarla anche dopo microsoft invece abbandonò il proprio prodotto alle sue sorti per focalizzarsi su l'xbox one e anche in maniera sbagliata e qui arriveremo poi al motivo per cui sony è diventata un fenomeno io adesso la generazione ps4 one la farei molto velocemente perché è una cosa che abbiamo anche trattato spesso e comunque è una cosa molto più fresca farei giusto il riassunto per poi arrivare al al sunto quindi post ps3 abbiamo il lancio di ps4 che ha fatto decisamente grandi numeri una console lanciata un prezzo incredibilmente basso stasi rispetto al precedente precedente perché da 600 euro sono passati a 400 direi un prezzo più che ottimo e proprio hanno avuto anche un ottima campagna marketing pre lancio perché hanno creato un hype della madonna tempi giusti la console allora controller a maggio console a giugno uscita a novembre perfetto soprattutto tanti titoli mostrati tantissima carne al fuoco e soprattutto erano porti di quello che fu il supporto a playstation 3 quindi tutta l'utenza che si era vista trattare bene coccolata all'interno della generazione playstation 3 fu invogliata a passare alla generazione successiva venne creata anche una sorta di desiderio sul pubblico motivo per cui al lancio ci fu veramente un possiamo dire un'invasione di persone che addirittura devastarono negozi per riuscire ad andare a prenderla a day one tant'è che abbiamo ancora oggi sono ancora in germania ma non solo ma io mi ricordo come in germania in cui a corsa sfondarono una serranda si la gente che passava sotto la serranda che si stava alzando veramente non volendosi bastava e cadeva giù ammazzava delle persone ce l'avrei fatto anch'io perché sono malato l'unico difetto enorme del lancio di ps4 furono i giochi al lancio c'era veramente pochissima roba a benostante quel poco che c'era era buono c'erano battlefit 4 che era un multiplayer online perché la campagna per quanto uno potesse cosa durava poi sopra che era pagatissima anche guida pagato a morire però per quelli che come me hanno finito ps3 con battlefield 3 è stato veramente una piacevole compagnia per tipo 474 ore non è un numero a caso solo nel multiplayer e poi c'è stato kids on shadow fall che ha fatto vedere il salto generazionale è stato un titolo comprato perché faceva vedere un salto generazionale mostruoso rispetto alla generazione precedente mai finita probabilmente è stato il titolo che veramente mostrò da subito i muscoli di una console in questa generazione abbiamo dimon soul spider man anche con il ray tracing anche se poi quello il salto è un po più è molto più sottile perché ti avendo giocato quell'altro comunque avendolo visto vedi quant'è grande la differenza con il ray tracing e pochi accorgimenti extra però se riesce a vedere ad esempio adesso dimon souls dimon souls ti fa vedere un salto mostruoso perché tu non lo vedi solo in termini di risoluzione lo vedi in tutto la quantità di dettagli a schermo ascolta non è il 4k che ti fa il 4k a 60 che ti dice oh mio dio next gen è la qualità visiva che riesce a mantenere la mole quadro gale santa appunto c'è la mole poligonale dalla madonna 4k gli ambienti sono curatissimi ma soprattutto quasi sempre io non ho mai visto una texture lo resti in dimon soul animazioni facciali veramente fuori parametro c'è le animazioni facciali in game è in game non in game ragazzi sono fuori parametro hanno una qualità cioè l'algoritmo quello per le animazioni l'abbiamo sparato a manetta per renderli super espressivi in modo che tu le riesca a percepire hanno utilizzato praticamente gli stessi che si utilizzano nelle cut in però di solito in game vengono eliminati perché non è abbastanza potenza di calcolo abbastanza dettaglio per farvi vedere invece la modelli sono sempre a load massimo quindi il miglior modello poligonabile ce l'hai sempre a display e pensa che demons non è neanche un gioco story driven figurati cosa potremmo vedere tra un anno forse con God of War io voglio vedere God of War il prossimo titolo di Naughty Dog lì probabilmente vedremo cosa effettivamente si può fare con una console del genere anche Horizon secondo me dal teaser che abbiamo visto cioè se quello che abbiamo visto è effettivamente in game e l'acqua quella fisica potremmo vederne delle belle comunque ragazzi sommariamente lancio di ps4 e l'era ps4 è stata il trionfo di sony per assurdo per assurdo il gioco più bello al lancio su playstation fu reso gun un cavolo di indie ragazzi mamma mia reso gun è stato veramente veramente assurdo uno spettacolo un titolo arcade veramente spettacolare su playstation 3 abbiamo avuto ottimi indie perché aveva avuto dei titoli esperienziali perché comunque playstation 3 una cosa che mi ero dimenticato di dire è che effettivamente fu una console che ti faceva provare delle esperienze che non avevi ancora provato possiamo dire di aver provato delle grandissime esperienze con giorni ad esempio giorni è un titolo che veramente poteva essere candidato al game of the year nessuno si sarebbe scandalizzato se l'avesse vinto ti ricordi che bello l'era per sfruttare il six axis si però era un gioco era un gioco di merda sono dire lo trattato non ci monetizzano era un gioco di merda l'air però il fatto che tu dovessi usare il six axis e lo stacco da ps2 a ps3 secondo me è stato più grande di sempre fine qui ci abbiamo avuto in termini di esperienza con due al senso però visivo e comunque non avere cercevamo il pad wireless e tutto avevi il più o meno siamo di giroscopi madonna o passare dai giochi ps2 a ps3 è stato veramente una roba allucinante cioè la volta poi in passata abbastanza graduale anche lì è perché all'inizio facevano veramente schifo i titoli ps3 però voglia si però aspetta il primo titolo che abbiamo preso nel lancio di ps3 non è quello presa tanto lontano è stato resistance resistance c'è una grafica della madonna però era già uscito da un po la console da noi è arrivata a ritardo devi considerare anche questo ma gli americani che se l'ha preso dal day one l'ho presa l'ha presa con quanto tempo è passato da quando era uscita non mi sembra tanto mi sembra massimo due mesi dopo due mesi a maggio mi sembra e se ho fatto la comunione è uscita a marzo ringrazio tutti i parenti che mi hanno donato soldi per avermi involontariamente regalato ps3 peace se magari volete venire a donarci anche per il microfono parenti 100 euro ce ne bastano 139 per il 109 perché abbiamo 30 euro da scontare su amazon allora fai anche bene vuoi anche la beneficenza comunque ragazzi ps4 forte del successo di playstation 3 vede esplodere ancora ancora di più i propri team first party l'unico team che veramente è stato sotto le aspettative fu polifoni digital perché fece uscire due gran turismo abbastanza diciamo mediocri nella generazione playstation 3 e si sono presentati con un gran turismo sport su playstation 4 che inizialmente non era niente di che però si sono fatti molto perdonare con un supporto post lancio veramente mostruoso tant'è che gli ultimi aggiornamenti sono arrivati vi sembra addirittura quest'anno per gran turismo sport e probabilmente continueranno a supportarlo ancora nel tempo perché dovrebbe essere introdotto all'interno di gran turismo 7 si questo poi questo poi staremo a vedere cerchiamo di tagliare corto il confiamo più fatto sta che playstation 4 vede esplodere proprio totalmente tutti i propri team first party quindi la presa sul pubblico diventa maggiore anche perché la concorrenza ha flopato tutta abbiamo nintendo che arrivava da un successo di wii veramente mostruoso presentarsi con una wii u che flop poi una maniera clamorosa perché i genitori non riuscivano a capire che tipologia di prodotto fosse quindi non lo compravano perché pensavano fosse solo un controller per la wii e quindi non la compravano il prezzo tra l'altro non era granché il salto generazionale non c'era era una console che si collocava proprio male all'interno del mercato credi che io non so neanche che forma abbia wii u non ho idea di cosa fosse simile a wii rotonda piccola e il resto c'era nel controller che merda sbagliarono proprio tutto con quella console tutto microsoft fece il uno dei più grandi errori mai visti nella storia videoludica presentare una console invece che focalizzarsi sui videogiochi si focalizzarono su tv 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 tant'è che se tu vai a cercare microsoft xbox one conference troverai sicuramente il meme quello tv 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 dove ti fanno vedere quante volte hanno detto tv all'interno di una conferenza e fu una roba veramente imbarazzante sony quindi si trovò con un prodotto competitivo sul mercato perché era più bello della rivale era più piccolo era un prodotto che si presentava bene agli occhi del pubblico era un prodotto che costava meno della concorrenza perché xbox costava di più perché tra vendevano con kinect e quindi ebbero proprio un campo libero per poter fare una generazione devastante abbiamo avuto una generazione dove hanno dominato il lungo e lungo e largo hanno fatto record su record in termini finanziari tant'è che playstation 4 nonostante abbia venduto meno di playstation 2 due un anno o due anni prima anzi aspetta playstation 2 contiamo almeno dieci anni di mercato all'incirca tre o quattro anni prima di playstation 2 aveva già superato il record di monetizzazione fatto la playstation 2 attualmente ha fatto dovrebbe avere una fila si è molto caldo attualmente per sony è stata la console più profittevole della storia ma non solo per sony presumo proprio in generale dell'intero mercato se lo ricordo male profittevole si esiste penso di sì se non esiste non ventato io profittevole ma con dolce è buono ora playstation 2 playstation 4 fu un successo come abbiamo detto clamoroso hanno avuto strada spianata sono riusciti a fare una generazione eccezionale dove non hanno mollato comunque niente sotto il punto di vista delle produzioni first party anzi le hanno incrementate e siamo arrivati ad oggi con playstation che è diventata un fenomeno di massa e qui ci ricolleghiamo a quello che poi è il titolo del prodotto abbiamo lasciato da parte microsoft perché vogliamo far visto che noi siamo fan di sony comunque abbiamo sempre acquistato prodotti playstation one e series x non abbiamo acquistati la prima perché parer mio faceva schifo non mi offriva assolutamente niente per poterci spendere tutti quei soldi series x invece visto che comunque hanno avuto una crescita esponenziale nel corso della generazione sono arrivati a sviluppare una console sono ripresi molti anche la fine si tant'è che series x e series x dovrebbero aver venduto series x non so quanto ha venduto però dovrebbero aver venduto decisamente bene comunque a livello di immagine a mio avviso hanno fatto un lavoro decisamente migliore di quanto ha fatto sony con ps5 però non è questo il core series x non l'abbiamo acquistata perché abbiamo un pc performante possiamo sfruttare quello per giocare titoli microsoft che arrivano anche lì quindi non ha senso per noi acquistare una console di casa microsoft l'argomento su cui ci vogliamo concentrare non è tanto il lancio di ps5 le vendite quello che ci è piaciuto e non ci è piaciuto è tutto il contorno relativo a playstation 5 sia tutta la situazione che si è venuta a creare perché giustamente se da una parte hai dei fan che ti amano dall'altra avrai sempre qualcuno che ti odia e questo è poi il core centrale dell'argomento sappiamo che è stata cioè non è stata un'introduzione perché comunque sempre parte dell'argomento è stata abbastanza lunga però adesso entriamo nel vivo del discorso beh ragazzi il problema principale secondo noi è anche la situazione il periodo storico in cui ci troviamo perché palesemente io direi che facciamo subito una premessa direi che l'argomento più importante e più chiacchierato di questa generazione saranno le scorte di playstation 5 e sarà un problema che si porterà molto avanti perché series x nonostante abbia venduto tanto è ancora riperibili in alcuni store non mi sembra siano state fornite da microsoft indicazioni riguardo il totale esaurimento delle scorte retailer rilasciate dalla fabbrica distribuite ai negozi no però microsoft ha detto che sarà difficile comprare i propri prodotti fino perlomeno ad aprile 2020 sarà difficile se sony ha detto chiaramente non potete più acquistare niente finché non tiriamo fuori altro perché tutto quello che abbiamo fatto uscire è stato venduto quindi ragazzi io penso che l'argomento principale sia questo ci concentriamo un po qua e spaziamo intorno a tutto il discorso di scalper eccetera eccetera allora possiamo cominciare già col dire questo chi come noi vive il mercato console quotidianamente perché noi avendo un canale youtube facendo un po i nostri talk show settimanalmente riusciamo comunque ad avere a che fare con diverse tipologie di pubblico specie se poi come noi andate anche all'interno di gruppi specializzati per i videogiochi vi ritrovate in situazioni dove abbiamo svariate persone che o elogiano a dismisura oppure criticano a dismisura ma anche con cose senza senso per esempio possiamo parlare di odio anche per piccole cose come ad esempio l'annuncio delle specifiche della console cosa che sostanzialmente non dovrebbe fregare a nessuno perché un pezzo di hardware non è fatto soltanto di processore scheda video ma è fatto di tante componenti che devono lavorare assieme queste componenti devono essere performanti se tu mi annunci delle specifiche e persone che non capiscono niente ti vengono a criticare e questo comincia a diventare già un problema se quella live di mark cerny è stata molto interessante e a noi ci ha fruttato anche bene i termini di visualizzazioni eccetera perché anche iscritti anche iscritti perché siamo riusciti a spiegare con parole povere che cosa volessero dire i grandi paroloni detti da mark cerny quindi per noi è andata bene poi comunque noi siamo appassionati roberto più di me roberto icico per chi ci stesse ascoltando però ecco diciamo che non è stata una mossa poi così intelligente visto che penso di non sbilanciarmi il 70 barra 80 per cento se non di più dei tuoi clienti sono dei casual gamer cioè gente che comunque di hardware eccetera non capisce granché questo è vero però bisogna che tenere di conto che quella conferenza era mirata agli sviluppatori era il discorso per il game developer conferenzi è proprio è stato anche un errore da parte dell'utenza a pensare che fosse rivolta a loro noi la bella è stata anche un errore comunicativo loro perché anche loro hanno chiamato le persone a vedere il video si appunto beh quello secondo me è stato fatto per cercare di dare informe per ascoltare secondo me a capire che stavano facendo qualcosa eccetera eccetera far parlare di sé perché altrimenti non vai rilasciare una conferenza di quel genere in pubblico l'avevano già fatto perché se tu vai a vedere c'è che road to ps4 che più o meno fu una cosa molto simile soltanto che quello lì non ebbe tutta quella visibilità perché non c'era questo uso smodato dei social adesso abbiamo un aspetto social che è stato fortemente ma veramente fortemente incrementato tutte le console tutti i console maker tutti i produttori di hardware e software puntano molto all'aspetto social perché quello che vende molto è il social quindi cosa è successo sony si è appoggiata per il marketing a tantissime celebrità abbiamo visto ad esempio nascere l'odio verso gli influencer cioè influenze che ricevevano una playstation 5 si sono visti odiare dalle persone perché a ci rubano le console no non ti hanno rubato niente rientrano nella parte di console promozionali che sarebbero stati a una cosa normale sarebbero state le console che sarebbero finite negli store ma nel momento in cui siamo che tu non puoi uscire per una pandemia e non puoi andare in un negozio a vederla loro te la fanno vedere comunque attraverso i social no beh secondo me ne avrebbero date comunque le console non così tante soprattutto non a certi personaggi come hanno fatto adesso anzi vabbè dato la playstation 5 a louis che cazzo c'entra louis io ti dico hanno dato la playstation 5 a un influencer inglese che l'ha rivenduta a 1200 sterline e l'ha pubblicato su instagram si è preso una shit storm che la beta basta ma meno male parleremo anche giustamente perché questo ci porta anche a parlare di un altro argomento che è quello dello sciacallaggio gli scalper vabbè calda di questo è un po più preparato perché si è letto anche alcune cose oggi io mi posso far forte di quella che è stata la nostra esperienza per andare anche a vedere se riuscivamo a trovare delle console da far avere a chi ci seguiva e soprattutto anche il giorno della maratona noi ci siamo tanti veramente attentissimi ogni secondo a cercare per rifresciare eccetera eccetera e diverse persone sono riuscite ad ordinarla tramite noi perché noi abbiamo pubblicato il link ad un euro a media vuola la neuroni dalle 9 di mattina gli unici che non abbiamo pubblicato sono stati quelli di amazon abbiamo messo il link alla pagina prodotto ma non era disponibile chiedendo anche a loro di raffresciare perché purtroppo è stato difficile è stato online meno di un minuto perché anche il tool per vedere i prezzi lo storico l'ha registrato dicono che sia stata su un paio di secondi ma non ha registrato nemmeno il lancio quello del preorder il 17 e anche il preorder il 17 Daniele Bossari Daniele Bossari calciatori squadre intere si vabbè fuori di test beh comunque ragazzi il problema principale come stavamo dicendo all'inizio è che stiamo vivendo un periodo storico in cui verosimilmente anche in un'azienda come Sony ci sono dei problemi se ci sono problemi in un'azienda come Sony ci sono problemi anche in un'azienda che deve produrre i pezzi problemi significa meno scorte disponibili di quelle che realmente tu vorresti portare sul mercato ergo già non saresti riuscito a stare dietro alla domanda anche se questo magari ha influito pochissimo perché molto probabilmente ha influito poco visto che comunque è tutta una cosa automatizzata fatta dalle macchine considerando che poi loro sono riusciti comunque a produrre più playstation 5 rispetto a quante playstation 4 però secondo me avrebbero voluto fare di più secondo me avrebbero voluto fare molto sì loro probabilmente volevano fare di più però devi anche scontrarti contro i limiti tecnologici che hai all'inizio di ogni nuova generazione all'inizio di ogni ciclo produttivo è una cosa normalissima però comunque il problema principale è stato quello questo argomento cioè parlando proprio di questo ci possiamo collegare anche a tante cose come ad esempio le fake news era venute fuori delle indiscrezioni che volevano sono in difficoltà di produzione che le console scaldano 4 milioni in meno sì 4 milioni in meno dalla produzione che era quel giornalista lì? no non era un giornalista veniva da Bloomberg mi sembra anzi una fonte di Bloomberg gli aveva detto questo però non era una fonte verificata ma mi ricordi che c'era il discorso che avevano detto produrre cioè questo qua ha pubblicato lui stesso sì sì loro stessi avevano pubblicato degli articoli che si smentivano cioè si autosmentivano perché diceva prima che Sony avrebbe prodotto tra i 10 e 11 milioni di console poi l'aveva reglamentata 15 15 milioni ne produrranno 11 e se andavi dietro di due mesi lui aveva scritto quello cioè non avevano mai scritto che le avrebbero fatte così tante quindi si andarono contro anche loro stessi tant'è che Sony prese posizione disse che non era una cosa veritiera intervenne anche AMD per smentire la notizia via di scorreggio sì è già stato un sacco cioè ci sono state tante 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 notizie che vennero riportate soltanto perché la piattaforma faceva numeri questo poi ragazzi è un argomento che non vogliamo trattare l'abbiamo strattato il brutto dei social è che qualsiasi cosa di un prodotto di tendenza si sparge a macchia d'olio che sia positiva o sia negativa considerando che un sito su quello si basa perché cioè lavorano e mangiano tra virgolette con i click è normale che tu faccia un articolo per qualsiasi cavolata però comunque il problema principale delle vendite quindi il fatto che non sono riusciti a stare dietro alla domanda che cosa ha portato? come qualsiasi prodotto a tiratura limitata ad esempio io che seguo il mondo dei pop e anche delle scarpe che sono un fanatico quando un prodotto viene lanciato sul mercato a pochi pezzi e qualcuno lo compra la prima cosa che fa è rivenderlo la maggior parte delle persone non lo fa il problema è che quante console avranno prodotto guarda allora negativamente secondo me considerando che al lancio di playstation 4 solo in america ci furono un milione di console in europa quando arrivò ci furono un po' più di un milione di console possiamo dire nelle prime due settimane all'incirca 3 milioni in questo caso nelle prime due settimane secondo me si parlerà già di 4 milioni 4 milioni e mezzo ok se tu dovessi fare una stima quanti scalper avranno acquistato per rivendere considerando che ragazzi c'è una news l'ho letta su every eye che riporta un gruppo di persone un gruppo organizzato che è riuscito ad acquistare e rivendere ad un prezzo maggiorato di non mi ricordo quanto 3500 console probabilmente sono quelli che avevamo visto su ebay all'inizio che sono riuscite ad accumularne nel tempo gente che aveva 350 console in prenotazione poi alcuni degli account che avevamo visto presumibilmente erano dei fake perché c'è gente che le mette in prevendita ti fa pagare poi le acquiste e te le dà alcuni ho visto che le avevano acquistate da reseller a 600 euro e gli è stato cancellato perché non sono riusciti a comprarla manco loro manco a fare gli scalper sono buoni infatti il problema vero di questo lancio che secondo me sarà ricordato per sempre è proprio la compravendita di console ragazzi playstation sembra un vero e proprio oggetto per mantenere lo status symbol ne parlavamo prima è diventato un oggetto del desiderio come l'iPhone come le scarpe della Lidl infatti esatto però c'è da dire che le scarpe della Lidl fanno cagare cioè sono brutte e sono diventate un meme e sono esplose la domanda è stata veramente altissima da subito e chi seguiva molto l'ambiente si è reso conto di questo da subito perché ogni notizia, ogni minima stupidaggine che approdava sui social faceva numeri da record tant'è che aveva avuto l'annuncio del logo di Playstation 5 che fece più visualizzazioni e più scalpore dell'annuncio dell'estetica di Series X ho guardato alle 2.20 di notte quando lo stavano facendo convinto che facessero vedere il design non mi ricordo con chi stavo parlando ero lì storto col telefono mi presento il PS5 logo ho chiuso, basta ho perso un quarto d'ora a guardarmi sti qua che parlano per vedere PS5 col fonte che già io ho su Photoshop piratato ops dai stupido e poi non ce l'ho quello lì, ho una copia brutta vabbè comunque i social danno e i social tolgono in questo caso i social hanno dato uno stato di notorietà ancora maggiore a Playstation però hanno tolto la possibilità a molti di poter acquistare il prodotto questo perché tante persone prese da anche manieri, possiamo anche dire in maniera di protagonismo i classici utenti che potete trovare ad esempio su Facebook ah io l'ho sempre acquistata al day one vado al negozio me la compro senza problemi c'è chi ci è riuscito però, ho visto un paio di persone un paio che ce l'hanno fatta però ma il bello è che non erano neanche quelli che fanno i sboroni così era gente che diceva ragazzi io non sono riuscito a comprarla ho telefonato al negozietto non mi ricordo chi era questo ragazzo però l'ho beccato su uno dei gruppi di Playstation ha detto io ho avuto la fortuna perché ho telefonato a un negozietto che sta lì ha detto ma per caso avete qualche console in prenotazione ha detto guarda c'è arrivata una sola unità c'è arrivata adesso non sapevamo neanche che ce l'avrebbero mandata se vuoi è tua e l'ha presa pensate che culo quello è stato fortunato però come dicevo i social danno i social tolgono tante persone sono rimaste a bocca asciutta e questo cosa fa produce ulteriore interesse e desiderio nell'utente nell'avere questo prodotto motivo per cui gli scalper saranno ancora più attivi avranno bot costantemente incentrati all'accesso sui vari siti perché oramai si compra online quindi lo fanno molto prima questa situazione qua del covid ragazzi l'ha resa un po' atipica perché se ad esempio qualche anno fa avremmo potuto trovare i Playstation 5 negozi avremmo visto la gente fare le maratone e il calcio storico fiorentino per accapararsi una console noi oggi abbiamo visto questa lotta pur ovviamente in maniera differente online cioè il giorno in cui abbiamo fatto la maratona il giorno del lancio è 19 sono crashati i siti di Euronics Unieuro, Comet, Troni, MediaWorld cioè sono i maggiori siti di commercio in Italia per l'elettronica sono crashati tutti per una console MediaWorld aveva una fila di quasi 100.000 persone sono arrivati a toccare un picco di 97.000 persone ecco quasi 97.000 persone in Italia alcuni sono stati anche intelligenti come MediaWorld che hanno messo il sistema delle code in Inghilterra anche Iuronics Carri's World mi pare si chiami aveva implementato anche loro l'avevano già utilizzato per il lancio di Xbox per il lancio di Xbox arrivarono a fare delle code mi sembra di 60-70.000 persone al lancio di Playstation 5 non ho letto più di 200.000 persone 210.000 persone in coda per poter entrare no 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 in una volta sola ma dove? da Carri's World 200.000 persone 210.000 persone in coda per provare ad acquistare la console ma in Gran Bretagna? sì in un retailer solo online ma cazzo facevano a starci? online ah beh poche pochine sì veramente assurdo una cosa senza precedenti tant'è che certi numeri non li facevano nemmeno per il Black Friday per capirci quindi l'oggetto è diventato molto desiderato motivo per cui probabilmente sarà preso ancora più di mira dagli scalper perché purtroppo queste unità vendute a prezzi maggiorati che fino a qualche mese fa riuscivi ad acquistare a 100-150 euro sovrapprezzate che tra l'altro noi comunque vi sconsigliamo in ogni caso di farle aspettate comunque di trovarla non dovete assolutamente dare cioè non vi dovete abbandonare al oh mio dio devo avere la console ce l'hanno tutti oh mio dio voglio giocare questo se voi finanziate uno scalper è come se stesse finanziando questa pratica scorretta tant'è che raccontiamo questo piccolo aneddoto un utente nel nostro gruppo Telegram è stato bannato dal Nato è stato sottoscritto perché ha provato all'interno del nostro gruppo a rivendere delle console di dubbia provenienza se mai ci fossero state motivo per cui si è preso un calcio nel di dietro l'ho sparato fuori dal gruppo e l'ho bannato banna istantaneo banna istantaneo perché sono pratiche che a noi non piacciono non tolleriamo e non appoggiamo quindi se avessi fatto come il ragazzo di cui ho letto su Facebook quello che l'ha rivenduta cioè ho beccato un ragazzo in un gruppo che ha postato la foto di una console ha detto ragazzi io ho una console extra perché dovevo darla ad un amico ma non la prende perché è riuscito a ordinarla da un'altra parte 500 euro più la spedizione per mandarvela a casa ed è vostra perché noi come abbiamo fatto con le console extra non le abbiamo decise di darle in giro noi ragazzi stiamo riusciti ad ordinare più console e anziché annullare l'ordine abbiamo fatto in modo di darle a persone vicine a noi ad esempio persone che le volevano la diamo via martedì che la viene a prendere una console va a un suo amico una console va a mia cognata una console va a un altro amico un altro tuo amico appunto quindi noi abbiamo non abbiamo preso nessun rincaro l'abbiamo dati via così che poi è stato anche casuale perché le avremo disdette perché ci hanno scritto altrimenti le avremmo causate le avremmo tolte cioè probabilmente avremmo fatto in modo di darle agli iscritti a qualcuno del nostro gruppo però la pratica del rivendere a prezzo maggiorato noi capiamo che può essere considerata come commercio perché comunque tu investi una cifra ci vuoi fare un ricavo sopra è legittima però raddoppiarne il prezzo non è più legittima vuol dire essere dei bastardi cioè ragazzi c'è gente che l'ha acquistata per 12.000 dollari cioè 12.000 dollari per un prodotto che ne vale 500 capite da voi che è un'assurdità cioè veramente 12.000 dollari vuol dire che non hai un minimo senso di responsabilità per quanto riguarda il denaro oppure non hai problemi e magari non avere problemi per buttare 12.000 euro in una console cioè io già non ce ne avrei speso i 600 per quanto io ami PlayStation oddio no scherzo 600 ce ne ho speso io no non da uno scalper io no però possiamo dire comunque che questa situazione ha portato a degli grossi shortage dovuti anche a questo c'è stata anche le accuse a Sony perché non hanno detto l'orario in cui avveniva il preorder gli unici momenti in cui gli scalper sono entrati in azione ne sono stati quando si sapeva per filo e per segno quando sarebbero arrivati i prodotti disponibili sugli store perché per loro è semplice basta settare un bot che a una data ora entra va nella pagina del prodotto la mette nel carrello l'acquista loro hanno la disponibilità economica già pronta pagano e tanti saluti sono a posto per loro non diventa un problema questo ci sono reti apposite che si occupano di questo genere di pratiche le abbiamo viste in azione ad esempio nel mercato delle gpu per pc con il lancio delle rtx 3000 dove nessuno praticamente è riuscito a comprarle perché tutte sono andate in mano agli scalper lo stesso se non erro non so se sono già state lanciate però anche la serie 6000 di AMD anche le cpu sempre solita storia ci sta seguendo Alessandro diamanti che mi sembra avesse ordinato la 3080 molto tempo mi hanno detto che me la mandano a novembre o a ottobre comunque un paio di settimane ma mi sa che non l'ha ancora ricevuta se l'ha ordinata in un negozio può essere che gliela mandano online sì però è un negozio non so se gli è andata alla fine non mi ha più detto niente perché anche i negozi hanno avuto grosse difficoltà perché ne sono state prodotte poche mi pare ne avesse avuto tipo 8 8 e una di quelle di quell'altra che ce l'hanno ma non al lancio che casino però vabbè due in Italia le avevano mandate quelli di MSI di 3090 però è un mercato molto più piccolo sì molto più piccolo però decisamente numeri molto più piccoli quindi in proporzione più o meno è la stessa cosa comunque per stare sull'argomento PS5 il problema è che questa mancanza di scorte che poi è dovuta all'altissima domanda gli scalper che comprano e rivendono eccetera eccetera il tipo ignorante può fare tre cose primo finanziare gli scalper e lì vabbè posso anche capirlo umanamente puoi avere talmente tanta voglia di acquistare un prodotto che dici ma vaffanculo me lo compro lì lo trovo a un prezzo conveniente 650 euro quanto può essere conveniente prenderla 150 euro in più me la prendo quello posso capirlo è una cosa umana e poi ci sono le due categorie di deficienti che sono quello che se la prende con negoziante noi che l'abbiamo acquistata da multiplayer che ringraziamo tantissimo per la trasparenza e per le grazie risate che ci hanno strappato con i commenti post-laccio ma anche con il supporto che ci hanno offerto perché per delle nostre preoccupazioni per cui li abbiamo contattati sono stati molto trasparenti e gentili quindi grazie Andrea grazie a tutto lo staff di multiplayer proprio tanto di cappello a multiplayer che si è rivelato veramente uno shop molto affidabile ci siamo ricreduti dalle vecchissime volte dalle vecchie esperienze che abbiamo avuto hanno fatto grossi passi in avanti quindi chapeau quindi le due tipologie di individuo che si possono palesare in queste situazioni sono quello che se la prende con il negoziante e in multiplayer veramente ragazzi si sono spuntati degli inside joke favolosi con gente che aveva letto ad esempio 692 alla fine dell'ordine e diceva sono il 692esimo in coda robe del genere o gente a cui questo mi fa ridere però secondo me è sbagliato è stato cancellato l'ordine perché rompeva i coglioni parole no no perché rompeva i coglioni no no due gli ha tolto l'ordine perché rompevano troppi coglioni via mail perché li hanno insultati li hanno fatto a parte uno gli ha fatto le recensioni negative su Trustpilot che l'hanno fatto bene con quello degli amici ha detto guarda non gliel'hanno cancellata a quello però gliel'hanno messo in coda per il D2 ad altri invece l'hanno tolte però non ho ben capito perché però penso che abbiano fatto del casino forse è gente che ha provato perché si sono verificate degli episodi di persone che hanno preso il preordine di multiplayer e lo vendevano a parte quelli può darsi anche loro gente che tramite mail esterne ha provato a cancellare o far spostare l'ordine di altre persone che avevano pubblicato nel gruppo di multiplayer l'ordine per avere delle informazioni tant'è che hanno detto non pubblicate il vostro ordine anche perché loro non è che ti cancellano l'ordine automaticamente però diventa una mole di lavoro in più dover verificare ogni singola mail perché spuntano quegli individui imbecilli quindi sono degli infami la seconda tipologia la seconda tipologia di persone invece che si affacciano in queste situazioni sono quelli che se la prendono con la casa madre quindi sony fai schifo sony ne ha prodotte poche perché voleva fare il coso artificiale oppure ne ha prodotte poche perché sapeva che sarebbero state piene di bug e che il processore scaldà talmente tanto che la parte centrale si scioglie e quindi non volevano fare troppe figure brutte grazie per averci fatto da beta tester grazie per averci fatto da beta tester quindi questi fenomeni da baraccone che sono rimasti senza io definisco dei rosiconi non posso definire in altro modo ci sono persone che la prendono con filosofia come ad esempio Andrea quello che ci ha seguito tutto il giorno che dovrebbe essere qua in live la prendono con filosofia ci ha scherzato su e comunque cerca di mettersi a parti soldi per poterla acquistare a tempo debito non la va a comprare dagli scalper non non si comporta in un certo modo queste sono persone mature e che altro ti puoi aspettare cioè in una situazione del genere bisogna anche avere comprensione sì lo so dobbiamo cercare di tagliare perché doveva essere durare la metà in queste situazioni prima di tutto bisogna avere comprensione comprensione bisogna avere comprensione sia per il contesto storico in cui ci troviamo sia per ragazzi bisogna essere consci della domanda che c'era per sta cazzo di playstation 5 soprattutto è una console non è l'ossigeno non è il vaccino per il covid non è che state morendo e se non l'avete morite aspettate come hanno fatto altri se no vi svegliavate prima la ordinavate prima chi ha peccato di arroganza dicendo che l'avrebbe comprata al day one io sono contento che non l'avrà al day one sono contento che non l'avrà dicembre sono contento che non l'avrà gennaio ma anche che non l'avrà febbraio io spero che questi ce l'abbiano tra un anno perché la prossima volta imparano che se vogliono qualcosa si devono muovere per tempo allora Alessandro mi ha informato da qua non so perché non scrive in chat lui ha ordinato la la RTX il 16 settembre ancora niente stessa cosa un cazzo io non l'avrò fino a gennaio la sto già pagando se avessi prenotato una PS5 verosimilmente a quest'ora staresti giocando si 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 però tu sei ricco hai l'isee 80 miliardi di euro puoi comprarla da uno scalper a 12.000 euro si si comunque questa situazione è stata molto 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 atipica vuoi per il periodo storico vuoi anche per l'eccessiva domanda che c'è stata forse è dovuta anche al periodo storico perché comunque in un periodo di pandemia molte persone si sono ritrovate anche a riscoprire il piacere di stare a casa perché stare a casa tendenzialmente ti porta anche ad annoiarti quindi quando ti annoi la prima cosa che fai ti metti a qualcosa di comodo vuoi che sia la televisione un computer qualcosa ti metti a fare cioè mi regala pandemia mi ha fatto iniziare a leggere assurdo perché io ero abituato a giocare io ero abituato a giocare costantemente giocare guardare film fare cose però mi sono tutto il tuo svago avevi quando andavi fuori avevi tante altre cose da fare si si però ascolta c'è da dire che come prima quarantena mi è stata tipica lo sai si però cioè fondamentalmente io a casa non sono non sono una persona che a casa si annoia poi adesso che ho la play 5 ancora di meno però comunque sia è innegabile che tante persone che magari vedevano il gaming come un passatempo adesso lo vedono come una necessità perché sto in zona rossa non c'è niente da fare devo prendermela per forza la ps5 chissà quanto ancora ci sto qua bla 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 chissà quante volte ci ritorneremo quindi le persone si sono riscoperte ma come deve andare non ci torniamo se ci torniamo ci torniamo per poi le persone hanno capito che comunque stare a casa ti porta anche avere certe necessità una delle necessità è quella di avere qualcosa da fare quindi molti si sono fiondati sul mercato console molti hanno acquistato a suo tempo una playstation 4 altri si sono prenotati per una playstation 5 e quindi ci ritroviamo nella situazione in cui siamo adesso con forti scarsità di prodotto in tutto il mondo non solo da noi non ce l'è più semplicemente basta c'è più playstation 5 sparita non ce l'è più finita non ce l'è più quindi è finito anche l'argomento non ce l'è più basta basta io direi basta davvero io direi basta l'argomento l'abbiamo parlato veramente tante è durato una vita in più pensate che volevamo farlo durare circa 40 minuti e 40 minuti è durata l'introduzione quindi 40-45 minuti abbiamo durato perché poi non era proprio un'introduzione ci servirà da monito per il resto si faremo in modo di buttare giù una scaletta più severa per poter ridimensionare preparare l'uscita cosa devo fare? c'è? devi andare lì devo cliccare no non devi cliccare quella lì fermati e clicca dopo ok si purtroppo non abbiamo la stream ecco che quindi dobbiamo fare tutto in brutto per quello aspettiamo una botta di fortuna si aspettiamo di vincere al super enalotto che compriamo direttamente una casa dove metterci tutto tutto lo studio di registrazione e beh potremmo rivendere le play che ci arrivano a 4.000 euro l'una vabbè quello avremmo già sistemare il canale anche la casa se continua così allora noi vi ringraziamo per averci seguito il prossimo podcast attualmente non sappiamo ancora com'è perché prima ci prenderemo come abbiamo già detto il giusto tempo per pubblicare su varie piattaforme l'audio questo audio l'audio incriminato faremo a scaglioni faremo tipo magari tra un paio di giorni su youtube poi lo portiamo su soundcloud che dobbiamo ancora fare il profilo dobbiamo fare poi studiarcela come fare cominceremo a portarli su varie piattaforme poi dopo valuteremo nel tempo come procede detto questo vi ringraziamo per averci seguito niente buonasera a tutti possiamo neanche dire lasciate like nemmeno buonasera possiamo dire perché chi ci ha seguito adesso è sera ma chi ci seguirà la prossima volta e buongiorno buongiorno buonasera e buonanotte arrivederci ciao ragazzi un saluto dai crew dudes ciao a tutti figlio qui sì